ciao a tutti coccodrilli buon anno come ogni anno per partire alla grande noi oroscoperemo ma per oroscopare bisogna chiamare nonno faustino che già sta oroscopando eccoci qua sei pronto sei pronto vai vai meglio meglio oroscopa ariete bevete il vino se avete sete mi piace questo toro vaffanculo te lo diciamo in coro gemelli se volete la fortuna toccatemi quelli ma come cancro questo è il mio segno e quest'anno per la viga massimo impegno leone me sta sul cazzo perché perché per me e le pantelle sono meglio le pantelle sono meglio le pantelle vecchia volpe vergine si sono la madonna datela la fiducia bilancia stanno pesa sto cincilla no scorpione diretta a me fila il bugiglione sagittario per te la viga sarà un calvario ora è il mio segno capricorno vaffanculo l'andata e vaffanculo al ritorno acquario il verbo trombare lo trovi solo sul dizionario pesci acqua in bocca perché chi si fa i cavoli suoi camp come me gemelli gemelli toccatemi questi toccatemi questi e non mi ricordo e allora che stai allo scopo a fare e allora dimmelo gli hai già fatto a lunga toccatemi quelli ma come pesci pesci ricordati bene allora come e cerini no mi raccomando acqua in bocca vai e a sta cazzo pesci pesci i pesci i pesci i pesci acqua in bocca eh no adesso ho il calvallo vai aah ed io ho il calcio con questo a del calcio che mi fa sbagliare adesso non mi ricordo più bene abbiamo fatto tutto il loro come bene ti stai in garguglia sui pesci pesci manca vai sei pronto ti ricordi bene aah tocca la mano aah pesci ma scusa eh se io ti dico ti è perchè fai oh alle gaffe no 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 è certo basta basta eh va bene ho capito ma invece di ti è fatto to e ti è to sarà uguale adesso ti è vai da fare i palli tutto a campo si ascolti andai già mentre la giacchetta scappa no ha toccato anche il coso quello dei cinesi ma quei cinesi tigre bravo questi quei tigre ringhia di meno quando dormire mi raccomando vai ma va a farlo aah 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 tigre tigre che è? ma te l'ho detto adesso vai a dormire quando ci stanno i che non ci stanno più era di questo tre parole cioè tigre ma che non è il segno è? il segno è la tigre è cinese e beh cosa dì? io ti dico tigre eh tu alzi la testa un po' fa vedere tigre alza la testa così si alza la testa beh allora cosa dì? tigre eh quando ti dormi qui guardate le cani dormi meno perché sennò sei stanco così devi vai come no di meno? dormi meno vai aah mi raccomando alza la testa eh aah aah tigre no aspetta dormi no le mani no vanno armarne giù aah 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 tigre dormi meno perchè sennò sei stanco si ma la testa le rai alza per bene e la fa finta che ti svegli no? vai aah beh ma va bene così? eh si però alza tu la testa ti chiede ma mi stai accendendo un po' le luci qua le luci a te alba vai vai sei pronto e ti accorgi bene? vai aah dai aah 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 tigre dormi meno sennò sei stanco sei stato male vai ma dimmi una cosa se non va bene mi fa niente io me levo ogni cosa e basta no le minacce no l'ultima alzate per bene ma come alza? favo le prove di alzate quando ti dico tigre tu alzate e basta senza di niente capito? sei pronto? tigre eh vi fanno gli altri due così stiamo al posto così ce l'ho tigre ma che è? non mi meno così che è? ma allora come lo fa? fanno bene guardati lì va bene come? bene guarda ma ci guarda un film guarda coglioni che guarda? tigre eh tigre tigre dormi meno tigre tigre alla testa tigre vai tigre oh tigre dormi meno tigre 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 si dormi meno e levate di bollone ah ah spero